Eccoci con Antonio Ciri, fresco vincitore. Ciao Antonio, complimenti. Come è andata? Benissimo. Buine corse, finalmente ho il puro di sangue. Per il Lulevigiano è sempre un piacere per tutta l'organizzazione. Quest'anno il cambio di Giuba, altra contradona, non ti piacciono le robe facili, Lignarello, grande contrada. Com'è? Bene, meglio, meglio. Meglio, ti stimola di più. Eh, assolutamente. Più grandi sono le cose, più impegno ci metto. Il finale non ti ho visto molto, hai gestito, amministrato. Sì, è andato bene, è un cavallo comunque di qualità, una volta preso la testa è un cavallo che comunque va forte. Bene, complimenti e grazie. E alla prossima. Grazie.